E la passione per il nostro lavoro, genuini come il latte delle nostre mucche e i prodotti freschi. Noi di Latterie Vicentine siamo fatti così. Ben ritrovati, buona giornata. In apertura Vicenza, portici ripuliti anche dai barboni. L'assessore Rotondi conferma che in vista della festa patronale lo sforzo della polizia locale sarà potenziato. L'attività della polizia locale per il contrasto di fenomeni come quelli dei mendicanti molesti o dei barboni che dormono nelle strutture pubbliche della città è continua, ma se serve si farà uno sforzo ulteriore in occasione della festa del patrono a Monteberico. Parola dell'assessore alla sicurezza Dario Rotondi, al quale abbiamo chiesto come la città si stia preparando al prossimo 8 settembre. Il fenomeno è noto con l'aumento delle presenze di fedeli e pellegrini che salgono a Monteberico per la festa del patrono di Vicenza, aumentano anche i medicanti che si sistemano sotto i portici. Del resto è noto che ci sono alcune persone che vivono ai margini della società e che di notte trovano rifugio nella prima parte dei portici, quelli che si affrontano a piedi. Anche in questo caso, ha detto Rotondi, faremo uno sforzo per allontanarli proprio in occasione della festa che porta molti cittadini a percorrere quella salita in una sorta di pellegrinaggio casalingo. Dopo i casi dell'ex Enel nel quartiere di San Pio X, molte sono state peraltro le segnalazioni di persone che dormono in situazioni di fortuna in diverse parti della città. Una delle ultime è quella che riguarda il centralissimo porticato del palladiano Palazzo Chiericati. Recentemente l'amministrazione ha organizzato una riunione per cercare di affrontare il problema nella sua complessità, arrivando però ad una conclusione per certi versi in attesa. Esiste un'ordinanza che vieta di passare la notte nei parchi, ma non c'è una norma che proibisca lo stesso comportamento, ad esempio sotto le loggie della Basilica. E a proposito di eventi che caratterizzeranno il prossimo fine settimana, ci sono delle modifiche temporanee a Vicenza per quanto riguarda la viabilità. Domenica 8, dalle 9 alle 19, Borgo Scroffa resterà chiusa alla circolazione tra la rotatoria con via 4 Novembre, le vie Pasi e Muttoni per consentire la manifestazione Araceli insieme. Per quanto invece riguarda via Le Roma, c'è un'altra modifica temporanea alla circolazione, sabato 7, dalle 9 alle 23, domenica 8 dalle 7.30 alle 20, resterà chiusa al traffico nel tratto tra la rotatoria davanti alla stazione dei treni e l'uscita del Parc Verde. La novità è necessaria per l'alta affluenza di pubblico che si prevede frequenti appunto il Luna Park in quelle giornate appunto per la festa patronale. Ieri sera a Montecchio Maggiore, l'evento clou organizzato da Videomedia, da TVA dell'estate, le finali di Miss Provincia di Vicenza, ma vediamo chi è l'affortunata di quest'anno. Miss Provincia di Vicenza 2013, la numero 9, Christel Conte. La nuova Miss Provincia di Vicenza si chiama Christel, ha 24 anni, è di Creazzo ed è studentessa universitaria di giurisprudenza. Christel Conte è stata proclamata ieri sera a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore, sede della finalissima del concorso organizzato da TVA in collaborazione col giornale di Vicenza e col patrocinio della provincia di Vicenza. Una Miss con la passione per la politica, Christel, e la voglia di intraprendere la carriera giornalistica. Per lei intanto ci sarà un'altra prestigiosa passerella, visto che la fascia conquistata le vale un posto alla prefinale di Miss Mondo Italia. A Villa Cordellina sono state assegnate altre sei fasce. Miss Gambe in primo piano, Valentina Bogotto, Model Girl, Maria Vittoria Bagarella, Cover Girl, Wenda Martini, Miss Il Giornale di Vicenza, Valeria Faccin, Miss TVA Vicenza, Samantha De Azzanini, Miss Bollicina e Colli Vicentini, Anna Peretto. La finale di Miss Provincia di Vicenza sarà trasmessa da TVA venerdì 6 settembre alle 21, sabato 7 settembre alle 16.45, mercoledì 18 settembre alle 21. Voltiamo pagina, due escursioristi di Ala, rispettivamente di 63 e 65 anni, marito e moglie, ieri sera sono stati tratti in salvo dagli uomini del soccorso alpino, di Ersiero e da quello trentino degli Altipiani. La coppia intorno alle 9.30 per un'escursione era appunto uscita nel tardo pomeriggio, si era persa in Val Longa lungo un sentiero al buio senza pile, aveva dato l'allarme intorno alle 20.30 contattando il 118 che poi appunto ha allertato il soccorso alpino. Marito e moglie sono stati tratti in salvo soltanto a mezzanotte, la signora è stata trasportata in ospedale a Folgaria per un intenso dolore al ginocchio. Schio si prepara ad accogliere una festa particolarissima, è la prima edizione nel Triveneto e la festa delle famiglie numerose. Il servizio. L'appuntamento è a Schio, domenica 8 settembre nell'area concerti Campagnola, le famiglie numerose si ritroveranno così alla sesta edizione della festa regionale, prima edizione per il Triveneto. L'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Famiglie Numerose vede il patrocino del Comune di Schio. Portiamo delle proposte e la nostra voce in pratica fa sentire le nostre difficoltà e le nostre esigenze. Dopo il raduno previsto alle 10, la giornata proseguida alle 11 e 15 con la Santa Messa celebrata dal Vicario Generale Don Lodovico. Da settembre riprende tutto, scuola, lavoro, tutte le attività, insomma, ecco, e c'è bisogno un po' di ottimismo, insomma. Schio riunirà ancora una volta il Triveneto, in programma anche il grande pranzo, ma anche lezioni di primo soccorso e una lotteria. I comuni ci devono ascoltare qualche volta, perché, non so, non è una provocazione, scoprono che delle volte ci siamo, ma non ci siamo. E a proposito di famiglie numerose, arriva al numero 14, la famiglia, i figli della famiglia Padovana Calò. In questo servizio c'è un'inchiesta per capire appunto il valore di queste famiglie che decidono di mettere al mondo tanti figli. Vediamo. Se ci sono le possibilità e se sono in grado così di seguire questi ragazzi, a me la famiglia numerosa piace moltissimo. È vero, c'è la crisi economica, è un grande impegno, però comunque se si ha un lavoro, se si ha la volontà, io penso che sia possibile. Certo, 14 è tutta un'altra cosa. E quanti figli? Due. Due. Arrivare a 14? No, mai, neanche a tre. C'è io, figli. Quanti? Tre. Tre. Ne farebbe di più? No, io no. No, per me sono tanti. Una scelta coraggiosa o una scelta azzardata, secondo lei? Azzardata. Sicuramente coraggiosa, poi si è fatta con amore e sicuramente è anche una scelta coraggiosa e giusta. Voliamo solo il bene per il nostro figli, per questo è meglio due, uno, basta. Io dico, se ce n'è per uno, ce n'è anche per due, per tre, per quattro. Anche per 14? Si fa. Torna la Rua, simbolo di Vicenza. Venerdì 6 settembre alle 20 e 15, il giro della Rua da Piazza Duomo alle 21. Accensione della Rua in Piazza dei Signori. CoccobelloWeb.com Sito web di annunci gratuiti. A Vicenza. Autovega in zona stadio è Das Welt Auto. L'usato di qualità, garantito Volkswagen. Un pacchetto di servizi ad alto valore aggiunto. Vicenza, via dello stadio 99. Istituto Kennedy. Recupero anni scolastici, diurni e serali. Attiene. Il Tirolo a Vicenza è Bierstube Treff. La taverna cimbra, con piatti tipici e tanta buona birra. Bierstube Treff. A Vicenza, Viale Verona 93. Detto da 50 anni ti porta in alto. Detto ascensori e montacarichi. Costa Bissara, Vicenza. Ben ritrovati. Il gran caldo di ieri non ha scoraggiato le centinaia di fedeli che sono riuniti nel cortile della comunità dei frati francescali, della comunità di San Daniele all'Onigo. L'occasione era quella di ascoltare uno dei veggenti di Međugorje, Ivan. Dopo la messa, il veggente ha parlato a lungo della sua esperienza, fatta di visioni che lui afferma di avere quotidianamente da quando aveva 16 anni. In queste occasioni, la Madonna gli affiderebbe alcuni messaggi dedicati in prevalenza alla famiglia, al ruolo dei genitori, dei figli e alla fede. Il veggente, ricordiamo, vive a Boston con moglie e tre figli e quella di L'Onigo è una delle rare visite fatte in Italia. Cambiamo argomento. Riparte la scuola tra pochi giorni e si ripresentano anche per quest'anno i soliti punti interrogativi. Gli orari che non coincidono con gli orari dei trasporti, di questo e di molto altro, si occuperà la trasmissione in piazza che, ricordo, andrà in onda sabato alle 12.30 e domenica alle 20.30 su TVA News. Invece su TVA Vincenza in piazza andrà in onda sabato alle 21 e domenica alle 11.55. Continuiamo il nostro telegiornale. Ci occupiamo di un appuntamento annuale, anche quello che assolutamente non può tradire le tradizioni e ci spostiamo a Trissino. Il coordinamento e la collaborazione tra il Consorzio delle Proloco Agno Chiampola, Serenissima, UMPLI Vicenza e il Consorzio Vicenza E per la promozione del territorio attraverso la diffusione dei prodotti enogastronomici tipici di eccellenza ed eco. È stato questo l'argomento del convegno organizzato nella serata di mercoledì 4 settembre alla Sirio Life, hotel, ristorante e centro benessere di Selva di Trissino. Abbiamo già fatto quattro incontri, proprio promuovendo delle iniziative assieme alle amministrazioni con le associazioni di categoria perché riteniamo che oggi fare sinergia come va di moda sia estremamente importante soprattutto in un momento di difficoltà anche per le associazioni di categoria difficoltà economiche, mentre assieme le forze secondo noi è vincente per gli obiettivi che ci siamo posti. Il prodotto d'eco nasce con la certificazione del comune e questa certificazione del comune è chiaro che è un atto che fa l'amministrazione di quel momento. Se poi quell'amministrazione un giorno per motivi vari non dovesse più esserci è molto importante aver fissato un punto dal quale non si può tornare indietro e che la proloquo di quel posto dovrà comunque portare avanti per far sì che il prodotto continui a essere sempre quello e soprattutto conosciuto sempre meglio. La serata al Sirio Life, organizzata anche in collaborazione con il comitato Festa del Gnocco è proseguita con una cena di gala curata dallo chef Amedeo Sandri con un menù a base di prodotti d'eco. Ci spostiamo a San Vito di Leguzzano ci sono delle novità per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a partire dal 14 di settembre verrà ridotto un solo passaggio il ritiro settimanale del secco fissato al sabato mattina ma Greta Alto Vicentino fa sapere che nuove isole ecologiche sono appunto in fase di allestimento. Invece a Schio sabato 7 nei chiostri del Baratto sarà inaugurata la nuova sede dell'Accademia Musicale di Schio che ricordiamo conta 700 alunni e più di 50 insegnanti il programma avrà inizio alle 11 con la vera e propria inaugurazione ma andrà avanti fino a sera, fino all'ora dell'aperitivo con un concerto jazz appunto a cura dei maestri musicisti dell'Accademia. Io vi ringrazio per averci seguiti, buona giornata. Siamo autentici, come la passione per il nostro lavoro Genuini, come il latte delle nostre mucche e i prodotti freschi Noi di Latterie Vicentine siamo fatti così Noi di Latterie Vicentino